La ISTA 360 GO 2 è una action cam talmente piccola e discreta da passare inosservata puoi portarla sempre con te, tenerla in tasca, usarla per inquadrature impossibili ma la qualità video sarà all'altezza e col vlog come se la cava ciao sono Mariano di videozappo.com ti dico la verità, io sulla ISTA 360 GO 2 avevo seri preconcetti la sostanza è che non credevo che qualcosa di così tanto piccolo e leggero potesse produrre dei video utilizzabili, utilizzabili nella pratica mi avete chiesto in tanti di provarla, alla fine mi sono convinto ho chiamato ISTA 360 e loro molto gentilmente mi hanno fornito un kit per questa recensione in estrema sintesi ti dico mi sbagliavo, ovvero questa macchina mi ha meravigliato e adesso cerchiamo di capire il perché di questa mia affermazione è già qualche settimana che sto usando la ISTA 360 GO 2 principalmente per B-roll ma non solo per il B-roll la trovo incredibilmente comoda e questo per una serie di motivi, il primo dei quali è il fatto che è così piccola che anche se finisce nell'inquadratura principale disturba davvero poco oltretutto la collana che in questo momento sto indossando è incredibilmente più discreta di una pettorina ma ti permette, vedi, di montare in un istante la macchina e in questo modo mostrare quello che stai facendo con le mani libere oltretutto non devi preoccuparti dell'orientamento cioè questa macchina anche che la fai ruotare, la giri, non cambia nulla è dotata di un obiettivo molto largo non è una macchina a 360 gradi nonostante sia una ISTA 360 ma utilizza un obiettivo estremamente largo anche nella modalità lineare quindi senza la classica distorsione dovuta all'effetto fisheye e questo angolo di campo estremamente vasto ti permette appunto di inquadrare quello che vuoi in maniera piuttosto semplice basta che la orienti verso ciò che desideri e sei pronto a registrare tieni però presente che l'immagine che viene formata sul sensore in realtà è quadrata ovvero utilizza un sensore da 2880x2880 pixel e all'interno di quest'area tu puoi ruotarla appunto come ti accennavo, come meglio credi ma l'immagine rimane comunque perfettamente orizzontale grazie al sistema di giroscopi interno la macchina registra in 2,5k pressa poco diciamo un full hd molto abbondante il video in modalità pro e anche in modalità standard della massima qualità è un 1440p dunque se hai una timeline full hd puoi anche eseguire un leggero crop ma in assoluto trovo che la qualità video di questa macchina sia davvero molto elevata e non soltanto considerando le dimensioni ma intendo in senso assoluto e questo mi ha meravigliato ancora di più in condizioni di scarsa illuminazione perché l'ho utilizzata per fare delle cose nelle quali onestamente non pensavo sarebbe riuscita e invece sono venute fuori delle immagini incredibilmente pulite in questo caso ovviamente rispetto alla dimensione dell'apparecchio è normale che se avessi utilizzato una macchina magari full flame con un obiettivo luminoso sarebbe andata sicuramente meglio ma non avrei certo potuto attaccarmela addosso a questa maniera altra cosa estremamente comoda e tipica della modalità pro video della ISA 360 è la possibilità di cambiare l'inquadratura in post produzione e questo puoi farlo sia all'interno della ottima app all'interno di ISA 360 Studio che è disponibile per Mac e per PC ma anche all'interno di Premiere tramite un plug-in che con i suoi piccoli difetti è estremamente versatile e ti garantisce un flusso di lavoro con questa macchina davvero comodissimo la macchina in se per sé pesa una trentina di grammi qualcosa in meno ed è davvero piccolissima in dotazione ti viene fornita questa custodia telecomando base di ricarica nonché treppiede ma anche impugnatura per fare vlog e anche la qualità dell'audio a questa distanza pure con un pochino di vento specialmente se sei in un posto silenzioso è diciamo sufficiente ne riparliamo tra un istante questo come ti accennavo è anche un piccolo treppiede posso appoggiare la macchina orientarla anche in questo caso senza nessun accessorio sto parlando a mani libere e riesco anche a registrare un audio decente a questa distanza ti vengono forniti sempre nel kit standard anche il supporto per il cappellino perché di nuovo questa macchina essendo così leggera ti permette di collegarla di attaccarla a posti dove una vera action cam avrebbe senz'altro dei problemi e di nuovo ti ricordo che la macchina sa in che direzione si trova e quindi passare dall'orizzontale al verticale non crea assolutamente alcun problema ti viene anche fornito questo accessorio che è una base con una parte adesiva l'adesivo per rigenerarlo è sufficiente bagnarlo con un po' d'acqua una volta attaccato regge tranquillamente la macchina e di nuovo la posso staccare da qui attaccare di qua posso orientarla come meglio credo e con questa basetta ho fatto timelapse veramente ovunque oltretutto ti viene fornito questa protezione posteriore che puoi anche utilizzare eventualmente in acqua per evitare di perdere la macchina ci sono magneti ovunque la macchina stessa è dotata di magneti per cui puoi poggiarla al volo da qualche parte dove ci sia una parte metallica sempre per quello che riguarda questa piccola custodia ti segnalo l'attacco da un quarto di pollice per collegarla a un treppiede fotografico e la ricarica tramite USB-C all'interno ci sono i contatti per la ricarica e tutti questi accessori sono dotati di magneti che praticamente collegano al volo la macchina a qualsiasi cosa in maniera estremamente sicura non si stacca neanche se cerchi di farlo con una forza assurda prima di vedere pregi e difetti di questo piccolo apparecchio metti un bel like a questo video iscriviti al canale usando il pulsante rosso qua sotto e schiaccia la campanella per attivare tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video dai anche un'occhiata alla mia vetrina su Amazon ci sono tanti articoli tutti commentati che ho provato personalmente puoi acquistare tranquillo evitando delusioni a te non costa neanche un centesimo in più e darai una mano al mio canale a continuare a realizzare contenuti gratuiti proprio come quello che stai guardando e se vuoi risparmiare sulla Insta360 Go 2 o su tanti altri accessori iscriviti al mio canale Telegram ti informerò ogni volta che ci sono offerte davvero convenienti accuratamente selezionate da me dunque cosa mi è piaciuto della Insta360 Go 2 prima di tutto peso e dimensioni sta comodamente in tasca con tutto il suo contenitore carica batteria, treppiede, telecomando è già con soltanto questo oggetto estremamente versatile premi un tasto, si collega questo diventa un telecomando già da qui puoi gestire praticamente tutte le funzioni nell'app puoi personalizzare la funzione del tasto qua in mezzo io l'ho configurato per il tap singolo per girare in pro video a 25p e a 50p con il doppio tap già con solo questi due comandi riesco a coprire il 90% delle situazioni può scattare timelapse soltanto come video non come sequenze di immagini e anche solo con questo piccolo treppiedino che non è certo la cosa più stabile del mondo ma in ogni caso funziona riesci a realizzare timelapse in posti completamente impossibili e utilizzando la basetta adesiva questa cosa è ancora più semplice la collana come ti ho accennato è molto più versatile di una pettorina e anche il supporto per il cappello è estremamente comodo diciamo che nella confezione trovi già tutto quello che ti serve per usarla al meglio e oltretutto durante le promozioni che ti segnalerò in ogni caso nella descrizione sotto a questo video e nel primo commento riceverai anche degli altri accessori in omaggio e particolarmente comodo ritengo sia il mount kit che ti permette di collegare la macchina in sé per sé dunque soltanto questa parte qui agli accessori di gopro quindi a tutti gli attacchi gopro oltre ad avere una serie di altri attacchi adesivi o per il casco o per altre cose molto robusti e ben realizzati è un prodotto che durante le promozioni se utilizzi i link che ti lascio nella descrizione qui sotto solitamente ricevi in omaggio ti dicevo dei pregi la qualità video ora 1440p 2,5k chiamalo come vuoi è una qualità di certo non altissima ma le immagini che vengono fuori a me ricordano di più una Hero 9 piuttosto che un oggetto così piccolo e compatto ti ripeto la qualità è lontana per esempio dalla One R con la modda un pollice ma è estremamente vicina a quella della Hero 9 e la Hero 9 per fare la stessa funzione ovvero per avere l'orizzonte livellato ha bisogno di un ulteriore accessorio che introduce anche un ulteriore costo è perfetta? no, come ogni prodotto trovo però che i difetti siano più che altro dei compromessi che sono stati necessari per contenere così tanto le dimensioni il primo di tutti è la durata della batteria della macchina perché quella incorporata nel corpo principale dura all'incirca una mezz'ora una volta ricollegata alla sua base inizia a ricaricarla dunque riparte per un'altra mezz'ora e nel complesso collegata a questa base telecomando la durata è nell'intorno delle due ore diciamo che supera abbondantemente le due ore ma la durata della registrazione è anch'essa limitata da problemi di temperatura perché lo spazio è poco e il calore in qualche maniera va dissipato io la tengo con un limite a 10 minuti che è un limite se vuoi estremamente stringente ma che dall'altra parte ti permette di avere clip più brevi e specialmente nelle scene d'azione magari non ti costringe a riguardare ore e ore di girato anche lo spazio di storage che è di poco sotto ai 30 gigabyte non è espandibile e non è poi così tanto mi è capitato più di una volta di riempirla e se non hai a disposizione un computer o al limite del cellulare ma col cellulare il tempo per scaricare i file è piuttosto lunghetto ecco questi trovo che siano dei limiti assolutamente accettabili per via della dimensione ma che vanno considerati c'è poi la mancanza di un ingresso audio se vuoi ovvio in una cosa così piccola ma non c'è neanche la possibilità di collegare un microfono bluetooth cosa invece possibile su altri modelli di Insta360 e questo limite dell'audio crea qualche piccola difficoltà specialmente se vuoi utilizzarla per fare vlog devi utilizzare necessariamente il piccolo microfono incorporato che funziona decentemente bene nell'ambito diciamo del metro di distanza quando questa distanza aumenta i problemi iniziano ma l'unica soluzione alternativa è quella di registrare l'audio separatamente ad esempio col telefono io trovo che per registrare video sia molto più comoda di un telefono per timelapse neanche te lo dico perché poi se il telefono lo stai usando per fare il timelapse ogni volta che ti arriva una notifica succede qualche cosa allora spegni le notifiche ma poi non puoi usare il telefono insomma io girare video col telefono lo trovo una cosa tutto sommato scomoda e invece questo piccolo apparecchio nonostante non abbia un monitor mi sembra che sia estremamente versatile e comodo proprio per girare video per fare foto sinceramente non credo abbia tutto questo senso il telefono ha una qualità decisamente migliore ed è anche se vuoi più immediato nell'utilizzo l'unico modo per monitorare quello che sta inquadrando con questa macchina è utilizzare l'app non c'è altra soluzione per chi è adatta questa macchina il prezzo non è di certo contenutissimo e che ti stimola ad un acquisto così di impulso però se la sfrutti per quelli che sono i suoi punti di forza dunque la compattezza la possibilità di tenerla sempre in tasca di averla sempre con te una qualità video ti ripeto invidiabile rispetto alle dimensioni è estremamente buona in senso assoluto un audio tutto sommato decente se la utilizzi nella maniera corretta ecco se tu riesci a sfruttarla per questi punti di forza è un apparecchio che mi sento di consigliarti con assoluta serenità io come ti ho detto non gli davo un centesimo e invece mi sono dovuto ricredere l'ho utilizzata per fare delle cose nelle quali ero sicuro di metterla in difficoltà e mi ha ogni volta meravigliato per la qualità, la pulizia e la semplicità con cui sono riuscito ad ottenere le immagini che desideravo nella descrizione qui sotto e nel primo commento come ti accennavo ti lascio il link sia allo store ufficiale Insta360 acquistandola in questo store avrai sempre in omaggio degli accessori utilizzando questo link e nei periodi promozionali avrai magari un piccolo sconto e degli altri accessori in omaggio e terrò aggiornati queste informazioni sia nel primo commento che nella descrizione te la linko anche su Amazon lì c'è di nuovo lo store tra virgolette ufficiale di Insta360 ma con l'acquisto su Amazon non hai altri accessori in omaggio è chiaro che il produttore se ti vende direttamente riesce a farti un trattamento migliore lo store di Insta360 è estremamente affidabile credo non ci sia motivo per non fidarsi ti dicevo dell'uso per vlog iscriviti al canale perché a brevissimo voglio pubblicare un video girato interamente con questa Insta360 Go2 di notte un vlog di notte fatto con questa piccola macchina per vedere come se la cava anche in situazioni estreme di giorno invece l'ho già utilizzata per un video vlog e oltretutto senza dire che stavo utilizzando questa macchina e in tanti hanno pensato che quel video fosse girato con apparecchi decisamente più ingombranti e teoricamente prestazionali ti invito a guardarlo così puoi renderti conto di quello che puoi aspettarti sia per la qualità del video che per la qualità dell'audio te lo linko qui accanto dagli un'occhiata dal pulsantone qua in mezzo invece puoi accedere al videozappo fan club la mia nuova community intanto grazie per aver guardato questo video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video